Aspetta, ho pensato una cosa e mi sono dimenticato. 850 negozianti non pagano il pizzo, è un falso. Pentiti di mafia dicono che quando vedevo l'adesivo di Adio Pizzo se ne andavo perché ero più rogne che altro, questo è un dato di falso. Quindi la prossima volta che sentiamo uno che dice tanto le cose non cambiano, si è blocchetto dei negozianti di Adio Pizzo e lo sbattiamo in faccia. È un dato di falso, su questo non si può discutere, è inopinabile. Quindi le cose cambiano e quindi compriamo le cose da Adio Pizzo, dei negozianti che aderiscono ad Adio Pizzo. L'unico tutto che supportiamo è quello dell'emità. Lo supportiamo, facciamo un po' di pausa. Sì, bravo. Allora, l'unico Pizzo che sopportiamo è quello delle mutandine. L'augurio è che nel prossimo futuro non ci sarà più bisogno di queste manifestazioni e che questi ragazzi che mi stanno guardando sorprendendo dall'altra parte diventano i protagonisti di questa città. Un problema più libera, uniti contro il Pizzo. Allora, va bene. Conto il Pizzo. Un problema più libera. No alla mafia e viva Valermo. Addio Pizzo. Un popolo che non paga il Pizzo alla mafia è un popolo libero, ricordatevelo. Guardate, guardate. Guardate, campana. Ho visto il film di Pizzo l'altro giorno che mi ha fatto piangere e ci vuole coraggio per cambiare sta società. Bravi a Dio Pizzo. Ma siamo contro il Pizzo? Perché va contro la gente onesta che paga le tasse. Mi piace di più Pizzo. E dici perché? 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 Perché ti piace il tuo Pizzo? Guarda. Mi piace di più qui? Perché? Ci sono delle tende. Per un futuro più libero, addio Pizzo. Addio Pizzo. Pago chi non paga. Ciao. Attenzione, il Pizzo non c'è gravemente alla salute. Non fare lo spruzzo. Smetti di pagare il Pizzo. Addio Pizzo. Pago chi non paga. Ma tu balli swing? Sì. E tu balli swing? Tu balli swing? Io sì. Tu? Io sì. A che tempo lui balla swing a te? Eh? Come? Tu balli swing? Swing? A Palermo? Eh. Solo con Sicily Swing Society a Palermo. Eh, infatti. Ah, dove? Ah, lui a Parigi balla. Sicily. Eh, eh. Eh, society. E soprattutto chi balla non paga il Pizzo. Quello. Io pago l'osca non paga. Io pago chi non paga. Pago chi non paga. Perché l'antimafia è internazionale. Il messaggio che voglio lasciare lo voglio lanciare in realtà agli amici della Vucceria. La Vucceria ha avuto momenti di splendore. Forza in questo momento brilla meno. Allora io voglio invitarvi a fare qualcosa. Date un esempio forte. Voi della Vucceria siete cazzuti. Fate un'operazione cazzuta, ripellandovi tutti insieme. Chi viene a Palermo viene a vedere la Vucceria. Siate i primi messaggeri del Basta al Pizzo. Dite addio pure voi. Sarete finalmente, di nuovo, per un'altra volta, ambasciatori della Palermo da vivere, non da beffere. Tornate a essere brillanti. Tornate a splendere. E fatelo con un bel messaggio. Tornate a essere brillantemente. Tornate a essere brillantemente. Tornate a essere brillantemente. Tornate a essere brillantemente. Tornate a essere brillantemente.